La navicella aliena E ora, in diretta, il presidente degli Stati Uniti d'America Non abbiate paura Non abbiate paura Non c'è traccia dell'alino, capo Siete degli incapaci Portatemi quel mostro Entro l'alba Ispettore Massimino Pasquale, finalmente ti ho trovato Mi devi ascoltare A breve si schienterà un asteroide talmente grande sulla Terra Che porterà al collesso del pianeta L'unico modo per fermarlo è mandargli contro un missile gigante Che fortunatamente già so dove trovare Aspetta cosa? Ma che stai dicendo? Sei sicuro di stare bene? Quando ti ho detto di essere tuo fratellastro Tu mi hai creduto subito Perché Pasquale Tu hai naso su pancia Proprio come me Ora ti devi fidare di me Non abbiamo molto tempo Ok, facciamo che ti aiuto Ma dove troviamo un megarazzo? Quando il boss della Russia mi rapì Mi portò nel suo laboratorio Lì vivi un grosso razzo Assieme al boss C'era anche il fratello gemello Vladimir Ora il boss è morto Ma se troviamo Vladimir Ci condurrà da razzo Vladimir è prigioniero Ah! E allora dobbiamo liberarlo È troppo importante Dobbiamo salvare il pianeta Terra Stasera non dormi Dobbiamo scocitare piano per liberare Vladimir So già chi chiamare Il mio uome Il mio vigile Che vigile 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 Pronto Pronto vigile Allora domani all'uscita della guardia Prenderemo la divisa E ci infiltreremo Tu hai capito il piano Tu hai capito il piano Vigile 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 Sì Ti sento strano Sei sicuro che hai capito Sì Ok A domani allora A domani A domani Sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu non crederai mie parola. Io ero lino. Aspettami il laboratorio. Arrivo. Devo andare. Non puoi continuare ad aiutarlo. Ma è mio fratello. Allora devi scegliere o lui o me. E grazie per la divisa. Appena finiamo ti libereremo. E scuseci ancora ma è una questione o di vita o di morte per il mondo intero. Ti aspetto alla finestra dell'Ava Nord. Buongiorno. 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 non entrare perché ho fatto uno struzzo così a posto grazie del consiglio che cazzo vuole dire da me? alieno ha bisogno di te alieno fermati che sarà scelto fermi fermi no Sì, 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 sì. Devi rintracciare l'alieno. L'ultima volta è stato visto in compagnia di questi due soggetti. Hai l'autorizzazione ad agire lì sopra della legge. Pensi di esserne in grado? Scusate. Ah, faccio ruo, cazzo. Noi, non c'è nulla. Noi, non c'è nulla. Noi, non c'è nulla. Grazie a tutti.